Amica, cari amici di Re Italia, ben ritrovati anche oggi a questa nuova puntata dell'Italia con voi. Fra poco faremo il punto della pandemia con due importanti scienziati italiani e cercheremo anche di capire che cos'è e soprattutto quanto può essere pericoloso il vaiolo delle scimmie di cui si parla tanto in questi giorni. E ora facciamo il punto sulla pandemia di Covid. Ho il benvenuto al professor Francesco Broccolo, virologo presso l'Università Bicocca di Milano e al professor Massimo Zollo, genettista presso il Change all'Università Federico II di Napoli. Benvenuti. Adesso prima sentiamo questa intervista che Anthony Fauci ha rilasciato a Rai News 24 e poi ne parliamo con i nostri ospiti. Stiamo affrontando un momento molto difficile, ne abbiamo affrontato uno ancora più difficile che è durato quasi due anni e mezzo. E quindi la lezione da imparare è che dobbiamo prepararci meglio in modo che quando ci sarà un'altra pandemia, e non c'è dubbio che ci sarà un'altra pandemia, magari non sarà una pandemia di coronavirus, potrebbe essere una pandemia di natura influenzale. Quindi dobbiamo continuare a prepararci al meglio delle nostre possibilità. Credo e spero che sia questa la lezione più importante che abbiamo imparato da questa esperienza, ovvero l'importanza di essere preparati, di essere cooperativi, collaborativi in tutto il mondo, nell'essere aperti alla condivisione di informazioni in modo che come comunità globale, a livello mondiale, possiamo rispondere nel modo migliore possibile. La scorsa settimana ha incontrato il Ministro della Salute italiana Roberto Speranza. In questi giorni arriverà Mario Draghi a Washington. Cosa vorrebbe dirgli? Dirò a Draghi quello che ho detto a Roberto Speranza. L'Italia ha bisogno di continuare a fare il buon lavoro che ha già fatto con la campagna vaccinale. Fin dall'inizio di questa pandemia l'Italia ha sofferto enormemente, perché l'Italia è stato uno dei primi paesi a essere colpito duramente da questo virus, da questa pandemia, ma dopo l'Italia ha continuato a comportarsi molto bene, ha messo in campo le risorse, delle buone pratiche di salute pubblica e hanno fatto un ottimo lavoro anche nel vaccinare le persone e portare avanti la campagna vaccinale. Quindi se dovessi dare un consiglio aggiuntivo e continuare a incoraggiare i cittadini italiani che ancora non sono stati vaccinati a vaccinarsi e quelli invece che sono stati vaccinati dovrebbero essere sicuri di fare la dose di richiamo quando ci saranno le condizioni per farlo. Vorrei subito un commento da parte vostra su quanto abbiamo appena sentito. Professore Broccolo, è vero che bisogna prepararci ad una nuova pandemia, ma questa volta farsi trovare pronti? Sì, farsi trovare pronti significa potenziare, implementare la medicina territoriale che ha messo in risalto il Covid e queste criticità. Che cosa significa? Riuscire a curare a domicilio, utilizzare al meglio le USCA che non sono state utilizzate bene in tutte le regioni, potenziare la medicina di laboratorio che significa anche sequenziare. Sequenziare il virus significa non solo fare un esercizio di ricerca, ma prepararsi all'arrivo di nuove varianti. Noi siamo stati il paese, in fin dei conti, che ha sequenziato meno in Europa, quindi indubbiamente andrà rivisto questo punto che è fondamentale. Quindi prepararsi vuol dire potenziare tutte queste caratteristiche. Tra l'altro ci ha elogiato, ha elogiato come siamo riusciti a uscire da questa pandemia, che poi è mondiale, è durata due anni e mezzo. Che cosa dobbiamo fare quindi oggi, che appunto si sono un po' tutte allentate quelle forme che avevamo prima avuto come regole? Sì, prevalentemente mi è piaciuta la parola della collaborazione. La collaborazione, per esempio, quello che ho notato dal punto di vista scientifico, è stata veramente grande. In Italia c'è stata tanta collaborazione. Un esempio classico è quello tra me e il professor Bloccolo, che ci siamo conosciuti nell'inizio della pandemia. e il punto che mi preme sottolineare è anche la capacità di adattare scelte, anche per esempio nell'identificare nuovi metodi di rilevazione virale, per esempio abbiamo messo in campo tutte le nostre energie da questo punto di vista. Ecco, purtroppo però il virus non solo continua a circolare, ma continua a modificarsi e ci sono sempre più infezioni asintomatiche. Come mai, secondo lei? Sì, questo virus sin dall'inizio ha selezionato delle mutazioni e questo c'era da aspettarselo perché è un virus ad RNA, tutti i virus ad RNA mutano come virus influenzale, però è circa tre volte il virus dell'HIV, quindi fa più mutazioni, più è grande, più muta. E queste mutazioni fino alla variante Delta sono state selezionate tutte per aumentare la trasmissibilità senza ridurre la virulenza. Ecco, dalla variante Omicron in poi invece fortunatamente inizia a ridursi la virulenza e sfugge sempre di più agli anticorpi. E questo forse anche perché la maggior parte della popolazione è vaccinata. Esattamente. Ecco, professor Zolo, come mai però i soggetti infettati dalla stessa variante hanno poi spettri della malattia molto diversi? La risposta è duplice. Da un lato sicuramente c'è una componente genetica, possiamo dire che circa il 5% delle persone infettate hanno una predisposizione genetica a accettare o a non accettare il virus. E questo adesso è stato studiato, tra l'altro voglio ancora sottolineare che questo sono studi... Qualcuno diceva addirittura il gruppo sanguigno, è circolata questa voce. Ce ne sono tante di ipotesi. In realtà però la ricerca ha detto che ce ne sono delle varianti su geni che danno una predisposizione all'ingresso o danno una predisposizione alla risposta una volta che il virus è entrato in cellula. E il secondo punto ovviamente è la comorbidità, cioè pazienti che, diciamo, gli infettati, ora se hanno altre malattie, c'è ovviamente in quello un grosso rischio che l'infezione possa in qualche modo completare un ciclo di difficoltà e questa difficoltà poi si traduce in una bassa risposta e un'entrata probabilmente in cura sostenuta. Tra l'altro insomma ci sono tante reinfezioni rispetto a questo virus. Cioè chi l'ha preso prima, nella prima o seconda ondata, adesso si trova nuovamente ad averla avuto. Esatto, perché queste ultime varianti Omicron 1, 2, 4 e 5 sono diventate molto brave nello sfuggire agli anticorpi sia evocati dal vaccino sia evocati da precedenti infezioni con varianti diverse. Si è proprio specializzato nella fuga agli anticorpi a discapito della virulenza. Quindi lui sta cercando di diventare endemico in tutti i modi. Tra l'altro prima, professor Zollo, era un virus che sembrava colpire più gli ultra settantenni, gli ultra ottantenni, quindi insomma le facce anche più fragili delle persone più anziane. Oggi non è più così, oggi lo prendono tutti, ci sono insomma i focolai anche negli asili nidi, purtroppo. Ecco tutto questo continuerà, oppure anche grazie alla terza dose, perché non tutti purtroppo sono riusciti a finire il ciclo vaccinale, ma anche con la quarta dose aumenterà meno il rischio per le persone più anziane? Ma, diciamo, studi abbastanza comprensivi, addirittura fatti su 30 milioni di persone infette, dicono che la vaccinazione dà un'altissima protezione, addirittura si parla dell'8% di persone che non avranno problemi gravi. Questo quindi è un dato conclamato, ufficializzato. È anche vero che, diciamo, la fascia si sta abbassando, non è solo la fascia degli anziani, dei over 40, ma si parla addirittura della fascia over 40, over 60. Per quanto riguarda questa fascia, sicuramente c'è da dire che c'è anche lì il concetto della comorbidità, quindi legata a patologie pregresse o iniziazioni di patologie che è appena conosciute, quindi diciamo ipertensione o inizia anche dei diabete. Insomma, diventerà endemico questo virus, un po' come influenza, ci sarà sempre, ogni anno? È già diventato endemico, possiamo dirlo. Si evolve continuamente, questa è la sua strategia, e con questa strategia potrà dare continue ondate, non solo una volta all'anno, ma più ondate all'anno. E tra l'altro, queste patologie a cui faceva riferimento il professor Zollo e i diabetici, i cardiopatici, sono non a caso tutti quei pazienti che hanno un microbiota alterato, cioè tutti questi batteri dell'intestino alterato, che è stata scoperta proprio recentemente, anche questi batteri hanno un ruolo nella progressione della malattia, cioè i diabetici, i cardiopatici, hanno un microbiota alterato, uno stato infiammatorio cronico, silente e continuo, che facilita poi lo storm citochinico, cioè questa cascata di citochine, una volta che il virus arriva. Ed è forse per quello che ci sono stati casi, e non pochi, di persone che sono infettate anche dopo due settimane, una cosa che insomma sembrava impensabile, quantomeno all'inizio. Ci chiediamo anche, troveremo dei farmaci o dei vaccini che non permetteranno tutto questo? Ma il lavoro sicuramente sta continuando nel mondo, diciamo per l'aspetto vaccinale, è noto che ci sono più di 38 abilitazioni all'utilizzo di vaccini, di questi 10 sono già vaccini di nuova generazione, e sono prevalentemente con virus inattivo. Questa è una notizia abbastanza importante che vogliamo dare, perché proprio il problema legato alla vaccinazione RNA, con il virus inattivo copriamo tutto lo spettro degli anticorpi da sviluppare contro il virus. A proposito di questo, per vedere se è un soggetto potenzialmente protetto, è sufficiente il test degli anticorpi, oppure ci sono anche altri test che possono essere fatti? No, non è sufficiente per il motivo che abbiamo detto, che il virus sfugge continuamente agli anticorpi, quindi gli anticorpi non solo scendono di titolo, ma scendono anche di specificità con l'arrivo di nuove varianti. Quindi ci sono nuovi test che misurano la memoria dei linfociti, che invece è molto più plastica, riconoscono la nuova variante anche se hanno avuto un contatto con una precedente variante. Quindi misurare la T-memoria serve per capire se il soggetto, anche se ha un titolo anticorpale molto basso e preso con una precedente infezione, può rispondere alla malattia. Ecco, veniamo a questa famosa proteina Spike, ne abbiamo sempre sentito parlare. Allora, raccontiamo al nostro pubblico che cos'è e perché soprattutto è importante, così tanto importante per il nostro corpo. Guardi, Spike è una chiave, è una chiave che ci permette di aprire una porta e la porta è l'uomo. Quindi qualunque cellula che ha sulla membrana questo recettore che si chiama angiotensina 2, Spike la lega e come la lega induce una serie di fenomeni e il virus si internalizza nella cellula stessa. Ora, Spike è stata praticamente una delle proteine più famose nel mondo negli ultimi due anni perché si è studiata tantissimo e si è visto tutta l'evoluzione mutazionale della proteina Spike, fino ad Omicron dove diceva il professor Broccolo. Ci sono 36 nuove mutazioni in Omicron per riconoscere questo ingresso nella cellula. Quindi, diciamo, su Spike si sa tanto. Se inibisci Spike il virus non entra. E tra l'altro, insomma, negli ultimi giorni non si è parlato solamente di Covid ma anche del vaiolo delle scimmie che ha fatto il suo ingresso in Europa. Allora, vediamo questa scheda e poi ne continuiamo a parlare con i nostri ospiti. Vaiolo delle scimmie. L'OMS conferma 92 casi in 12 paesi. Oltre al nostro paese l'OMS cita Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti. Ma il vaiolo delle scimmie, che cos'è? È una rara malattia infettiva causata da un virus della stessa famiglia del vaiolo ma decisamente meno diffuso e meno grave. Si diffonde tra le scimmie e i reuditori dell'Africa centrale e occidentale ma solo occasionalmente viene trasmessa all'uomo attraverso il contatto diretto con l'animale. Questo virus fu osservato per la prima volta nel 1958 e la campagna vaccinale fu poi sospesa nel 1977 quando si registrò l'ultimo caso di vaiolo nel mondo. Nel 1980, infatti, l'OMS dichiarò il virus eradicato dal pianeta. Con questi nuovi casi è fondamentale risalire alla catena di contagio ossia chi ha contagiato chi per capire se ci si trova di fronte alla malattia già nota per la quale ci sono vaccini e farmaci. Le infezioni sono lievi e si risolvono spontaneamente. C'è da ricordare che chi è vaccinato per il vaiolo umano è in gran parte protetto contro il vaiolo delle scimmie perché i virus appartengono alla stessa famiglia. In Italia circa il 40% di tutte le persone nate prima del 1974 hanno ricevuto il vaccino e attualmente c'è una scorta di 5 milioni di dosi che potrebbero diventare 25. L'attenzione è alta ma gli esperti dicono che non c'è nessun allarme non c'è da preoccuparsi troppo. Ecco, professor Zolo, facciamo un po' di chiarezza però innanzitutto cerchiamo di capire in che modo si è diffusa in Italia e in Europa ed effettivamente c'è da non preoccuparsi? Il primo segnale è di non avere preoccupazione che si può dare. La seconda cosa è che si sa ben poco di come si è diffuso visto che sono pochissime le persone infettate. Quindi diciamo, a questo stadio abbiamo un grosso bagaglio di informazioni sui virus che dico che non c'è da temere però attenzione bisogna mantenere questa doppia bilancia tra stare in allerta e utilizzare tutto quello che noi sappiamo per applicarlo poi su questo virus. Come ad esempio il vaccino che è stato obbligatorio fino mi sembra al 78? Sì, come avete ben detto nel servizio è incoraggiante il fatto che abbia infettato la fascia a 20-50 anni che significa che il vaccino per il vaiolo sta proteggendo ancora dal vaiolo delle scimmie questo è un dato fondamentale ha dato malattia lieve, autolimitante nessun morto e il punto da capire è come mai è uscito dall'Africa prima erano solo una manciata di casi adesso iniziano a essere un po' di più e soprattutto casi tutti indipendenti quindi non c'è stata una trasmissione tra individuo e individuo e questo è un altro dato molto incoraggiante quindi non deve esserci un allarme sanitario ma una preoccupazione degli scienziati a capire come mai il virus si sta comportando in modo diverso. A proposito di preoccupazione questa epatite acuta nei bambini che ovviamente preoccupa molto noi genitori da dove viene? Il Covid c'entra qualcosa o è tutta un'altra questione? No, l'ipotesi maggiore è che il virus c'entra il Covid c'entra qualcosa sia una post-Covid a seguito dell'infezione che è stata rilevata nel tratto intestinale per molto tempo addirittura in questi bambini nelle feci dopo la guarigione che solliciterebbe il virus continuamente il sistema immunitario del tratto enterico questa continua sollecitazione del sistema immunitario porterebbe alla produzione di anticorpi e citochine che determinerebbero poi l'epatite acuta questa è l'ipotesi maggiore in più con un plus degli adenovirus che sono stati anche questi rilevati in questo periodo potrebbe fare un effetto di superantigene scatenare questa epatite acuta un'ultima battuta a lei professor Zoll una chiusura cosa si sente di dire al nostro pubblico rispetto a questo Covid che comunque in qualsiasi forma sarà ci troveremo anche l'autunno prossimo eh sì purtroppo diciamo da un lato direi abbiamo tutta l'esperienza per poterla affrontare e non abbassare la guardia la sensazione che c'è nel mondo è che sta riprendendo però ovviamente laddove non c'è vaccinazione è lì che sta riprendendo quindi la vaccinazione è un punto importante ricordiamo anche che in Italia ce ne sono tanti milioni di italiani che non sono vaccinati o che non hanno concluso il ciclo vaccinale quindi insomma quindi questo è il segnale che vorrei dare continuate a vaccinarvi bene grazie professore Francesco Broccolo grazie professore Massimo Zolla adesso noi andiamo invece a Buenos Aires per conoscere